Ma buon dia a tutti amici di Doppia Frizione, siamo con un altro video sulla presentazione delle prove del rally della lana storico 2018 Quest'oggi siamo a provare la Romanina 2 Prova molto significativa per il lana perché c'è da tanto tempo Io ci vengo da tantissimi anni quindi la so praticamente a memoria Le prove della Romanina 2 sono alle 17.54 la prima che parte da qua Che sarebbe la terza prova e alle 9.42 la sesta prova che sono solo due prove Il sabato quindi se non riuscite ad andare a vedere prove magari domenica C'è comunque il sabato quindi potete mettervi più o meno in base ai vostri impegni diciamo Io visto che non ho niente da fare sia il sabato che la domenica vengo a vedere le rally Quindi direi che possiamo iniziare subito Scendiamo subito la ventola Direi che possiamo partire La prova più o meno inizia da qua quindi via Ci sono molti tornanti in questa prova Ma soprattutto è tanto tecnica perché è lunga Quindi è tanto lunga Qui si passa in mezzo a un paese Si arriva davanti alla tiga di Camandona praticamente Non ancora ovviamente Qui c'è un destra a sinistra Rettiglino in discesa Ovviamente qui si possono mettere macchine Si possono vedere dei bei posti Comunque anche sopra il muretto Basta che togliete un po' di rami e si vede tutto Guardate che bello è qua C'è una roccia a polvo strada Non mi è piaciuta molto Comunque le strade non sono chiuse Io non sto tirando in questo momento Ok Un altro destra a sinistra E poi giù a destra Un po' strettino questa Ok Altro destra E qua Si arriva alla tiga di Camandona Dove potete Mettervi lì Magari con una sedia Qualcosa del genere Vedere le macchine che sprecciano giù Dalla collina Come potete vedere qua C'è una forma stretta Con un bellissimo panorama Ok A destra Ha lanciato brutta Ci sarà una curva a destra A chiudere Cioè qua Quindi bisognerebbe prendere la larga E chiuderla Botta a destra Ok Tac Qui si taglia Destra a sinistra Qui a chiudere di nuovo Non potete sentire E qui c'è il primo tornante bello Dove le persone ci vanno Perché è più comodo Perché ci arrivi Molto comodamente Visto che Da sopra c'è un'area Dove gli elicotteri Possono Scendere C'è proprio la H Più è comodo Soltanto che Dopo che mettete la macchina Non potete più uscire Perché dopo vedrete Che le strade si chiudono Si Si chiudono E quindi non potete più uscire in macchina Quindi vi consiglio di lasciare la macchina In un punto Fuori dalla pista Cioè fuori dalla strada Se dovete proprio Salire Qui un altro Destra a sinistra Qui un ponte Che hanno appena rifatto per rally Qui si va su Sono arrivato un po' vicino Al bordo Non mi è piaciuto molto Non sto trovando L'impostazione giusta Per il sedile Non so perché Questa qui è un'altra Repubba bellissima Da Venire a vedere Soltanto che non c'è posto Cioè almeno non ci sono punti Ok Ok Continua Ok Scusate ragazzi però Allo certo punto Dovrò fermarmi Perché c'è il mio cioccolare Che sta andando In palla totale E quindi Se vedete un taglio Non capirete perché Qui Se fai uno sbaglio Sei giù Dalla riva Questo qui è un bel rettino Da venire a vedere Perché Ok Frenatona incredibile Staccatona Come dir si voglia Quindi tutto all'interno È un ponte In salita Una bella chicane Destra Sinistra Chiudere E poi di nuovo Destra Sinistra Io ovviamente sono in terza Non sto tirando Qui è un punto Bastardo Perché all'interno C'è una casa E quindi Pensiamo che non è Il punto più comodo Ok Siamo ancora Qua E poi giù Giù verso Vianense Giù verso La curva del Barbera Che è il clou Almeno Per Me E la romanina Altro tornantone Largo Qui in discesa È una godone A vedere le macchine Soprattutto anche Perché c'è posto Da vedere Come potete vedere Ci sono muretti Eccetera Ho preso una pietra In pieno Incredibile C'era una In mezzo alla strada Ho preso Ok Qui Altro tornante Abbastanza largo E si arriva Al secondo tornante Decisivo Diciamo Eccolo qua Per andare giù Salve ciclista Sinistra Sinistra È molto complicata Questa strada Perché essendo in discesa La campi quanto vuoi Però Se non hai freni Qui l'ho tagliata Sì Va bene L'ho tagliata Qui è un altro tornante Bello da venire a vedere C'è Un bellissimo panorama Ok E questo È il rettilineo Come potete vedere Come potete vedere C'è un sacco di spazio qua Però La gente Arriva tutta a vedere qui Alla curva del Barbera Curva del Barbera Perché c'è una fabbrica Che si chiama Barbera Ovviamente Come potete vedere E qui Dovrebbero tagliare Nello sterrato Però Io passo l'arco Perché Ci sono macchine Comunque salgono di qua E iniziano a salire Qui c'è una casa Quindi Beati ore Si guardano al rally A meno che una macchina Non rispondi È un garage Qui sinistra Sinistra Larga E poi Ci si butta Sul tornante In salita Anche qui È bello da venire a vedere Soltanto che Essendo in salita Le macchine Non lo fanno sporco Invece giù Alla curva del Barbera Prendendo Destra 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 Prendendo lo sterrato E le pietre Magari gli parte un po' il culo Essendo praticamente La metà delle macchine No vabbè La metà no Però Una parte delle macchine Essendo posteriore Si intraversa bene Qui stretto stretto Il muro Sennò si perdono secondi Un bel rettilineo Qui si arriva A Cavabiana Perché ci sono tante Cagate in mezzo alla strada Oggi Incredibile Destra Un ramo Sinistra Larga Larga Destra Qui è bello da venire a vedere Perché le macchine arriva Non so che è un piacere Saltino Saltino Sinistra Destra Molto tranquillo Altra destra Sinistra E qui ci si incrocia Con Calabiana Tornante A sinistra Largo E qui È quello che vi dicevo Andando giù da quella strada Si va Al punto del risoccorso Dove vi dicevo prima E qui è ancora tutta È ancora tutta Tutta prova Prova speciale Qui si arriva a Calabiana Dove mancano Probabilmente due chilometri Alla fine In mezzo al paesino Tanto però Per le barre la gente Qui è una bella staccatona È una pulva A sinistra Lunga Che però Si butta su un rettilineo Devastante Destra Sinistra Senza mai staccare il piede Praticamente Se mi mette te In mezzo ai boschi È il punto perfetto E qui Si va verso Andorno Si tiene la curva stretta Passano da qua Anche qui È un rettilineo Molto Molto bello Che Si arriva Se si arriva a Lunghi Si va contro il guardrail Come è successo L'altro anno Tac Curva qua È a sinistra A destra A sinistra A destra Continuo Che però Finisce Tra Più o meno 250 metri Ancora questo Tornante E poi Ci si imbuca Nel rettilineo Finale Che è Qua A quello stop Più o meno Quindi Anche la Romanina 2 L'abbiamo fatta Mancano ancora Un paio di prove Però nel corso Nel corso della settimana Farò uscire Tutti i video Almeno Sapete dove andare E cosa fare Più che altro Dove non andare E dove andare Io adesso Me ne ritorno Bellamente a casa A farmi I lavori E Cosa sta succedendo qui Niente Perfetto Noi Ci vediamo Ad un prossimo video Con Latina E continuate a seguire Doppia frizione